Doveva essere una giornata dedicata alla magistratura, quella di questa mattina a Teramo, in occasione della lezione magistralis del vicepresidente Legnini, quella stessa magistratura che nel frattempo veniva colpita a Milano. La notizia dell'omicidio del giudice Fernando Ciampi e di altre due persone colpite all'interno del Tribunale milanese è arrivata infatti durante la lezione sul CSM che il vicepresidente Legnini ha chiuso anticipatamente. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se sono stato un po' sbrigativo, ma sono davvero preoccupato. Una giornata che fino a quel momento era stata dedicata al CSM e all'ordinamento giudiziario partecipata da molti studenti. Ringrazio l'università, il rettore, la preside, i docenti e la professoressa Mosumeci che hanno voluto questo incontro con gli studenti durante il quale avremo modo di precisare il ruolo, la funzione costituzionale e una visione attuale, attualizzata del ruolo del Consiglio Superiore. È un'occasione stimolante e mi auguro utile per gli studenti. L'università Terramana nel suo complesso che è in movimento, le innovazioni, i progressi, i progetti sono stati ottimamente illustrati dal rettore Luciano D'Amico in occasione di Laureazione dell'Anno Accademico, alla quale io ero presente, come si ricorderà, anche per ricevere la gradita onoreficenza che mi è stata generosamente riconosciuta. La facoltà di giurisprudenza, presso la quale, lo ricordo, io mi sono laureato, per fortuna mantiene una funzione formativa primarissima per gli studenti e si proietta anche all'esterno come l'università nel suo complesso dovrebbe fare sempre di più. L'intervento di Legnini è stato preceduto dai saluti del rettore Luciano D'Amico. Decisamente importante per l'autorevolezza del relatore, per il significato che assume in questa università ospitare per una lezione magistrale il vicepresidente Legnini che si è laureato qui da noi e perché è un ulteriore passo per avvicinare la preparazione che forniamo ai nostri studenti, in questo caso alle istituzioni, agli organi costituzionali del Paese e sicuramente in una facoltà di giurisprudenza. Avere una lezione da parte del vicepresidente Legnini assume un valore davvero impagabile. La nostra università è nata intorno al nucleo di giurisprudenza e sicuramente iniziative come quella di oggi sono iniziative che riescono a rendere evidente quanto si riesca qui da noi a fornire un'ottima preparazione a tutti i nostri futuri laureati in giurisprudenza.